A 24 ore dalla tappa di Stefano Bonaccini all'hotel Baia Flaminia, Pesaro ha fatto ieri da cassa di risonanza ad un'altra dei candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Paola De Micheli, Piacentina, già ministra delle infrastrutture e trasporti nel governo Conte. Ospitata nella sala del Consiglio Comunale dal presidente Aspes Luca Pieri e dal segretario comunale PD Gian Piero Bellucci, la De Micheli ha tracciato le linee di una ripartenza del partito attraverso le domande dei giornalisti Roberto Fiaccareni e Luca Fabri. Una filosofia PD di proposte fondate sugli iscritti e sul coinvolgimento popolare nei processi decisionali, sintetizzata dal libro della De Micheli, concretamente Prima le persone, illustrato nell'occasione. È una donna militante che conosce questo partito, che conosce anche questo paese per l'esperienza che ha maturato, per la capacità che abbiamo noi donne di essere anche molto severe nell'analisi del passato, degli errori, nella capacità di affrontare anche coloro che ti criticano, per la concretezza, per il punto di vista femminile del mondo, perché noi abbiamo bisogno di cambiare l'organizzazione della nostra società, così è troppo esclusiva. Chi è dentro nel sistema sta dentro, chi è fuori fatica ad entrare, perché ci sono sempre meno opportunità e possibilità. Fra gli uditori della De Micheli in municipio, anche l'ex governatore Luca Ceriscioli e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dichiaratamente schierato con Bonaccini. Fra i temi marchigiani sui quali si è soffermata la De Micheli, anche la ricostruzione post-sisma alla luce del recente avvicendamento di commissario fra Legnini e Castelli. Ho incontrato delle persone che vivono nelle aree del terremoto, che mi hanno riconosciuto, abbiamo chiacchierato a lungo e anche loro mi dicevano che Legnini aveva fatto un ottimo lavoro, ha fatto un ottimo lavoro, quindi non vedevo questa necessità urgente di una sostituzione. Ovviamente auguro buon lavoro a Castelli, perché è nostro interesse di tutta Italia, non solo delle marche, che la ricostruzione proceda velocemente, anche per mantenere vita e lavoro nelle aree interne, che sono una delle questioni che affronterò con più determinazione anche nel documento del Congresso.